Sin dall'alba del gaming, molti giocatori hanno affrontato le insidie e le difficoltà che gli si paravano davanti, innumerevoli hanno tentato, molti hanno fallito, ma i pochi che non si sono arresi sono accumulati da una qualità, la qualità che separa i pro dai nabbi, la farma. Grazie per la visione Grazie per la visione